Salve a tutti e ben tornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer, oggi vi spiego i 5 migliori programmi per montare video 5 facilissimi programmi da usare, 2 sono a pagamento e 3 invece sono gratuitamente che potete usare tranquillamente e montare i vostri video in pochi minuti senza darvi problemi e niente quindi iniziamo prima con il programma ShotKat, ShotKat è un programma gratuito che potete usare, è molto comodo lo scaricate, lo installate, una volta installato lo apriamo e vi faccio vedere che cosa ShotKat ci dà eccolo qua, come potete vedere qui è molto facile da usare apro il file, ci metto qualche video, un attimo che cambio l'audio ecco qua, apro questo video di un gioco survival che io ho registrato eccolo qui un gioco Icarus ecco il nostro ShotKat in azione perché abbiamo messo il nostro file mp4 e qua sopra, qua sotto vedete la timeline cioè è molto comodo solo che ha problemi anche a riprodurre un po' l'immagine e il video perché si sta caricando ok, quindi lo fa con tutti i programmi e poi dipende anche dal suo processore quindi possiamo anche chiudere ShotKat e vi mostro il secondo programma secondo programma per registrare e montare video e sto parlando di VideoPad Editor Video infatti ho detto registrare perché con VideoPad Editor Video noi possiamo registrare e editare quindi ecco il nostro VideoPad Editor Video noi possiamo direttamente scaricarlo dal sito ufficiale quindi scarica ora per Windows è un programma leggerissimo ma proprio leggerissimo e utilissimo io lo uso sempre per video semplici non è che devo fare film da premio Oscar ma è un programma a pagamento quindi io metto la mia di chiave la devo sempre mettere eccolo qua questo programma lo uso da più o meno due anni è veramente buonissimo buonissimo ci ho fatto anche moltissime guide su come usarlo apriamo il nostro video adesso apro un gameplay che ho fatto una piccola di Call of Duty che ne so, che ne so, che ne so, che ne so prendiamo questa apri si carica velocemente lo trasciniamo nella nostra timeline ecco così ecco cioè rispetto a quello di Shotcut che l'immagine, il video andava un po' malissimo perché si stava caricando ma con VideoPad e tutto il video se avete un buon processore i video si caricheranno subitissimo veramente subitissimo poi con la transizione del video possiamo impostarla cioè la durata di slovenza in entrata possiamo impostarla così come potete vedere pian piano un po' scuro poi si chiarisce un po' e dà la scena al nostro personaggio in azione che sta colpendo il nemico una volta che è morto possiamo premere L cioè cancellare questa scena che abbiamo escluso e chiudere con una dissolvenza in nero ecco qua visto è semplicissimo da usare il terzo programma è OpenShot OpenShot è un programma gratuito che potete scaricare direttamente dal suo sito ufficiale lo scaricate lo apriamo ok questo è per cioè per installarlo lo apriamo OpenShot Video Editor prendiamo una traccia cioè prendiamo un progetto nostro quindi apri progetto questo è apri progetto va bene sempre quel video di Call of Duty per vedere un po' come ci dà il video come lo riproduce quindi vado un attimo su questo pc volume d se no dobbiamo direttamente fare così questo pc volume d e trascinare il nostro video qua sopra chiudere tutto le cartelle selezioniamo la traccia dove vogliamo posizionare il nostro video come potete vedere nel video si vede che c'è un piccolo caricamento blu sulla clip si sta caricando ecco il video si sta caricando piano piano possiamo già mettere play pure questo è buono qui possiamo anche impostare nelle nostre transizioni effetti emoji emoji transizioni quindi facciamo una croce grande la mettiamo qui la restringiamo sembra un ottimo programma molto comodo però non capisco perché faccia così ok la croce l'ha fatta ok ha fatto la croce ed è andato c'è un programma gratuito che potete usare su pc leggerissimi quindi ve lo consiglio poi passiamo al nostro quarto programma gratuito che viene usato da persone che fanno film ragazzi persone che fanno film solo che esiste una versione gratuita e a pagamento cioè con questo programma sono riusciti a fare questi film ormai tutti i film che abbiamo quasi visto fino ad adesso c'è la versione a pagamento e la versione gratuita DaVinci Resolve mi ricordo che due anni fa scaricai la versione DaVinci Resolve 14 ora stiamo a 17 va bene cioè è molto comodo è buonissimo ve lo consiglio è buonissimo è un programma anche gratuito vabbè con la prova non è una prova gratuita ma guardate qua download gratuito come potete vedere DaVinci Resolve 17 è la soluzione più utilizzata da Hollywood per montaggio effetti visivi grafici e movimento e poi c'è DaVinci Resolve che non solo vi dà la versione gratuita ma anche DaVinci Neural Engine strumenti per 3D potete anche lavorare ai modelli 3D qua sopra è tutto potete fare ora che lo apriamo è un po' non è come gli altri programmi per montare video perché questo qua è un po' complicato un attimo che lo apriamo ecco il nostro programma DaVinci Resolve qui possiamo mettere i nostri file quindi vado a prendere la mia clip di Call of Duty se la trovo eccola qua eccola qua sempre Warzone ok mettiamo una diversa adesso mettiamo questa la trasciniamo qua cambia ok trascinato abbiamo preso il nostro video quindi possiamo metterlo un po' strana la cosa qua ok edit poi c'è l'edit ecco qua qui è dove possiamo editare il nostro video ok va bene va bene si vede molto bene molto fluido vabbè anche perché ho registrato il video però a differenza di open shot che ci metteva parecchio a caricare comunque DaVinci Resolve non mi sono mai messo sopra a impararlo perché mi dedico di più a Premiere Pro e Video Pad Editor Video quindi questo è DaVinci Resolve 17 quindi se volete scaricare scaricate come vi ho detto c'è DaVinci Resolve gratuito e poi DaVinci Resolve a pagamento che ha la versione gratuita e altre cose chiudiamo tutto quindi non salvare e per finire abbiamo l'ultimo programma che sarebbe Adobe Premiere Pro famosissimo Premiere Pro con questo impari subito a editare a togliere lo schermo verde a mettere transizioni effetti video è molto comodo crei la tua scrivania su Adobe Premiere Pro è tutto modulare quindi noi possiamo non so mettere la timeline sopra sotto a destra a sinistra per vedere per vedere il video al centro destra sinistra c'è tutto modulare quindi noi possiamo spostare le caselle selezionare posso creare una mia scrivania su Adobe Premiere Pro eccolo qua nuovo facciamo un nuovo progetto quindi nuovo nuovo progetto questo avevo fatto una clip di montage kill su worldzone quindi apri progetto apri aspettiamo che si caricano tutti i video le musiche tutto eccolo qua con questo posso zoomare nella timeline restringere prendere un video e trascinarlo qui cioè è molto semplice basta selezionare solamente la cartella dove avete fatto i video poi c'è la transizione effetti vita transizione audio effetti audio elaborazione delle dinamiche filtro elimina banda c'è tanta roba tantissima roba ragazzi però Adobe Premiere Pro ha la prova gratuita prova gratuita e quindi a pagamento poi però la prova gratuita per un periodo di tempo e poi dovete acquistarlo quindi ragazzi questi sono i cinque migliori programmi per montare video programmi gratuiti programmi a pagamento programmi a prova gratuita e anche a pagamento quindi se il video vi è stato utilissimo ragazzi lasciate like e iscrivetevi al canale noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 Grazie.